E questa è la fine che hanno fatto 30 piante di cucurbitacee che ho cercato di salvare dagli afidi. La lotta è stata impari in quanto il numero di afidi quest'anno è stato un numero esagerato. Ho deciso di fare un bel falò con tutte le piante e un po' di paglia. Spero che questo mi aiuti a alleviare questo problema degli afidi nell'orto e visto che sarò ancora in tempo mi sa che riempianto o trapianto nuove piante di cucurbitacee. Dal vecchio Giacomino è tutto. Un saluto da Menamai e Faratea dall'orto. Ciao!